Vladimir, è quasi tutto pronto per l'ultima tappa del Roma Master Cross che si svolgerà qua a Civitavecchia, proprio qui dove siamo noi alla Parco dell'Uriveto. Come procede l'organizzazione e come è organizzata la giornata di domenica? Per ora procede tutto bene, stiamo definendo gli ultimi dettagli per il percorso, quello magari si farà gli ultimi giorni sabato e domenica. Per quanto riguarda le gare, quante gare ci saranno, insomma come sarà organizzata la giornata? Sì, la giornata sarà organizzata, la prima partenza, la seconda fascia alle 9.30, a seguire alla prima fascia intorno alle 10.30. Dopo alle 11.30 ci sarà una gara di bambini a livello promozionale che possono partecipare i bambini da 3 anni a 14 anni. Si svolgerà sempre all'interno del parco, è gratuito, basta che i bambini hanno una bicicletta e un casco e vengono premiati tutti i bambini. Per quanto riguarda le vostre classifiche, entrando nella fase tecnica, come procede? Roma Master Cross, siamo all'ultima tappa, quindi c'è anche la possibilità di qualche risultato? Sì, quest'anno abbiamo fatto un'ottima stagione, per ora siamo primi in classifica con il sottoscritto, tra le donne con Vanessa Casati. Abbiamo anche in altre due categorie che possiamo anche vincere. Puntiamo di un totale di quattro categorie. Speriamo, speriamo. Tra l'altro Radimiro mi diceva che uno dei vostri risultati obiettivi è quello di vincere il premio come squadra più numerosa, quindi cresce anche a Civitavecchia questo movimento. Sì, quello è il nostro spirito, la squadra, l'unione è tutto. Abbiamo avuto un cambiamento di società, però stiamo affrontando la nuova stagione con ottimi risultati. Radimiro, per quanto riguarda Civitavecchia, come procede questa nuova società, questo nuovo progetto? Bene, il nome abbiamo dato proprio al nome della città, si chiama Team Bike Civitavecchia, di cui abbiamo anche una scuola di bambini all'interno del parco. Per ora abbiamo 20 bambini, la scuola si chiama anche lei, Scuola Bike Civitavecchia. Speriamo di continuare, speriamo. La città è grande, i bambini speriamo che gli piace questa bicicletta.